In uno dei viaggi dell'amicizia organizzati dal Ravenna Festival siamo andati in Kenya, a Nairobi, per portare con la musica un messaggio di pace, di fratellanza e di cultura. Quando sono arrivato a Nairobi e sono andato sul luogo dove era stato preparato il palco per il concerto ho trovato questa centinaia tra bambini, membri di un coro locale e ragazzi che studiavano alla locale scuola di musica e ho trovato una grandissima disciplina e soprattutto un grande desiderio di immergersi nel nostro mondo musicale e culturale. Devo dire che per esempio cantando alcuni cori delle opere di Verdi e in particolare il famoso Vapensiero ho sentito una espressione da parte dei ragazzi e di questi bambini, alcuni proprio veramente piccolissimi di età, un trasporto e una partecipazione che era assolutamente commovente. C'è un'altra parte di..? Ho, fortissimo! Ho, fortissimo! Ed è stata una sorpresa vedere come questi ragazzi hanno suonato e cantato con i nostri complessi con una sintonia di affetti e di sensibilità che le hanno resi a noi vicinissimi La scuola naturalmente è la base di ogni progresso e di ogni reciproca comprensione La scuola è cultura e la cultura è l'unico elemento che possa unire i popoli in un mondo così difficile Noi abbiamo bisogno di aiutare questi ragazzi per renderli veramente partecipi della nostra cultura e assimilare anche quello che dalla loro cultura ci può giovare e renderci quindi più fratelli, più amici, più comprensivi Mandiamo a scuola un bambino del Kenya Grazie al nostro aiuto potrà lasciare una vita di strada e costruirsi un futuro Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!